ciao a tutti allenatori sono sempre io il vostro amico federic 95 ita e siamo tornati su pokemon dark rising in compagnia di tuberanza e dalla quando mi chiami tuberanza mi ecciti mamma mia mamma mia vero vado proprio vado proprio su di giri non ti ecciti solo per quello no no le altre citazioni lasciamole da parte e ragazzi per iniziare un bello indovinare like 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 come dice sempre mirko nei suoi video di pollicione lì lascia like sempre certo che si ringrazia chi lascia like scusa sempre e come in te no qua sotto sempre un commenteino ci sta sempre e vi ricordo la maglietta per un dragonite in descrizione è subentrato un po' del francese di federic perché non ti piace il commenteino commente è napoletano grazie a tutti i commenti basta mirko mi sento mario mi stanno a venire lacrime porca di quella ma come dai e come in te come in te basta basta ok poi mirko dice perché perché se non ci sei tu le serie sono morte vedi guarda tu cristo allora io mi alleno un attimo dragonite nella grotta raga vai vai io ho perso charizard proprio buttato l'ho buttato proprio a morire se no non mi allenano paralizzo e le diamo io la grande federic che se non ci fossi tu visto si un commento e come me dei vai io vanno commenti se c'è allora cosa importante ma i rodacti il cos'è importante è uscire dalla grotta raga perché in questa parte ho battuto quel tipo e cyrus che Era un bastardone, ok? Ok. Solo che Dani, loro già sono usciti, capito? Io no, sto ancora dentro la grotta. Ah, perfetto. Aspetta che... Ah, ecco, Max Revive. Non è che ce n'è un altro, perché se no... Ma qui lo vede, no? Ma i rivitalizzanti, ma quando ce li danno in sto cazzo di gioco? I rivitalizzanti io... E, B... Minchia, regà, senti qua che bel bel giro. Madonna mia, Mirko, che è oggi? Mamma mia, ragazzi, ho seccato un verbo pazzesco, non vi emozionate, mi prego. No, dicevo, ebbi la splendida idea di comprarne parecchi. Perché comunque era quel periodo in cui ogni volta perdevo e perdevo soldi. Al che ho detto, ma sai che c'è? Anziché regalarli agli avversari, mo me li spendo tutti. Ma sai che... Me ne compro 999 per i prossimi episodi. Quelli che chiedono i prestiti alle banche, regà, chiedono tanto e poi non ridanno mai niente. Uno dice, oh, già che chiedo, poi so che non glieli ridò, cazzo mene, cioè voglio di... Ah, beh, giustamente. Certo, questa è la base dell'Italia, cioè non è che io vi sto insegnando, vi sto dicendo cose non vere. No, no, infatti. Ma c'ha Samurot questa. Madonna, raga, io ci ho perso di nuovo la seconda volta, cioè c'ha quell'aerodactile che è un dito nel sedere proprio, per non dire culo. Sì? Esatto. Aerodactile, non c'hai mosse tipo di... Eh no, aerodactile è veramente ignorante, sì. Ha degli attacchi forti. Infatti io, meno male che ho... Come si chiama? Budello. Se non fosse per Budello... Budello. Sì, sì, è lui che mi ha salvato. Budello, aspetta, che proprio non sarebbe? Eh... Swampet. Ah, ok. Soprannome è proprio azzeccatissimo. Certo. Perché Budello? Perché, boh... Cioè, sono peggio di soprannomi di Federic nella randomizer di sovrimura. Raga, ma è vera che è scarsa, però. Eh? È vera e scarsa. Ecco. Sì, è scarsissima. Quando vinci tu, sono scarsi. Minchia, ma quel gheritos di merda! Ok. Minchia! È bastardissimo, raga! Altaria, altaria. Ecco, altaria. Adesso ti mando Electros e provo a farti vedere i sorciverdi. Da quant'è che non sentivo sta frase? Ti faccio vedere i sorciverdi. Da quando dicevano i nonni che mi portavano al mercato la mattina. Paralizzato! Infame! Ti spazio! Sì, ho battuto i rodatti! Sono troppo forte! Sono più forte! Sono più forte! Sì, però mo c'è tutto il resto della squadra, sto infame. Quello è il problema. Ah, a me lo buttavo tipo quasi per ultimo. Magari per ultimo, sì, sì. Fintro, eh. Vabbè, altaria di merda, va giù. Ok. Samurot c'ha. Vabbè, Samurot. Mamma mia, ragazzi, pesce! Che roba è! Ho battuto Florinda! A Florinda! Te faccio sto ombrello, figlio. Io salvo davanti a loro perché ogni volta che perdo poi mi devo rifare tutta la grotta. La prossima volta se perdo riavvio direttamente da qua e basta. Ma io spero che non devo sfidare anche l'altro, coglioncello che gli sta di fianco. Boh! Eh sì, vabbè, allora dillo, cioè. Non lo so, non lo so. Lo devo scoprire. Eh, io lo so per scoprire. Ah, no, se ne va, ok. Ah, ma ci hanno dato anche un Max Revive nella grotta. Ah, ok. Eh sì. Buono, buono, buono. No, io faccio sempre lo stesso errore che è fare tipo il cambio all'inizio, non devo farlo. Oh, raga, non l'avrei mai usato Max Revive, ma questa volta lo userò per Venusaur. Non ci credo manco io, guarda. Non ci posso credere. Ok. Raga, non ci crederete, ma ho quasi battuto Vera. Ma voi ancora no? Io l'ho battuta. Io oggi la sono già andata avanti. Ok. Ragazzi, ma ve l'ho detto, oramai sono una potenza di questa serie. Cioè, oramai, oramai, cioè, comando. Raga, quando non sapete che cosa fare, vi do una tattica buonissima. Allora, parassi seme, lo paralizzate e gli fate fangosberla. Praticamente. Precisione zero. No, 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 no. È lento per la paralisi e praticamente poi continuate a assorbirgli energia. Non fa più un cazzo, non fa. Ragazzi, allora, mi serve un'idea. Terremoto. Terremoto. Ah sì, ok, io l'imparo. Niente, come non ho detto, ho tolto dinami pugno. Oh, raga, era più facile. Florina qua, che è il tipo nella grotta. Il tipo nella grotta in confronto era Dio, sceso in terra. Veramente. Comunque, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un Lila e Lake e un commentee. Un commentee. Raga, vabbè, questo video deve avere 2000 commenti con scritto hashtag commentee. Commentee, come se, io sono francì. Eh, esatto. Guarda, quanto è forte sto Pokémon. Non glielo faccio, proprio. Devi sfruttare, quando lui fa il perraggio, c'è un turno di riposo. Eh, lo so, lo sto facendo. Ragazzi, Federic che dà lezioni a Dlarz. E poi voi dite che Dlarz è più forte. Ma quali lezioni? No, finalmente l'ho sconfitto. A posto. Oh, lo vedi? Che con i consigli di Federic ce la fai? Allora, no, perché Stone Age? Allora, ragazzi, mi lasciate un bel like, come se. Grazie. Grazie, tanto grazie. Oddio, già si parte con gli allenatori dopo quella lotta. Sì, va bene, gli allenatori lo fanno schifo. Sì, ma c'è un tipo i Pokémon scarichi. Anche io. Voglio anche ignorarli. Infatti dovrei uscire. Ma finito, che devo fare? Raga, io sono a Salem. A Salem, sì. Sono arrivato alla città natale della zia di Federic. Ma che vuol dire? Perché tua zia non è nata qua? Sei nato e morto qua. Nato e morto qua. Nel paese delle mezze, verità. E noi non c'è nessuno ti dirà. Allora, raga, io sono sceso, è pieno di allenatori, pure a sinistra, a destra. Abbiamo gli stessi gusti, ma ignoralo. Non gli parla ben niente a Federic. Ma io ho gli stessi gusti pure ai ragazzi. Infatti ti vorrei rimorchiare. Ah, ok. Sei elevato, vorrei agguantarti. Va bene. Mirko, è elevato, vorrei agguantarlo. È elevato? Vorrei agguantarlo. Ragazzi, ci sono bambini che comunque hanno una teneretà. Io queste cose non le direi. Sì, hanno una teneretà, ma non seguono degli youtuber molto teneri. Già. Se arrivati a Salem, la città del strego. Ragazzi, in questa città ci sono i revive che tanto piacciono a Federic. Sì, i revive! Ma veramente piacciono pure a me. Io vado un po' ad approfittarne. Quanti? 9999, le revive. Le compro giusto qualcuno per essere sicuro. Acquista 45. No, dai, io te lo dico. Se no me li trovi qua, poi non li trovi tipo per 20 parti. Sì, sì, sì. No, infatti vabbè. Raga, ne compro 69, spendo 103.500. Se ne compri 69 e la commessa ti dà un premio. All'aspetto che prendo anche... E inizia a cantarti, oh mio bello Federico. All'aspetto che prendo anche degli ice hail, non si sa mai. Ice hail, no, hail. E io ho detto, sì, ice hail, è giusto. Sì, va bene, sì, sì, sì. Devo far accompagnare a Mirko, no? Ah, è vero, non vuoi lasciare l'unico all'alfabeta del play. Scusa, eh. Ah, ok, raga, posso cambiare nome a Charizard, perché lo volevo chiamare Fire, mentre... Ma dove lo chiamano? Fire, ma dove? Sio, ma come ti è venuto sto sovrannome così proprio... Vabbè, ma se chiami solo Pacumon Pesce, che t'aspetti, scusa? Eh, tu non parlare, Fede, tu non parlare. Hai chiamato Lugia, il sole luna, Luigi. Musciarna come lo chiamo, Dani, scusa, eh? Eh, Culetto. Culetto, va bene. Culetto. Bravo! Nonycrame per Charizard. Culetto. Grazie, Dani, per i nomi originali. Figura, ti è sempre un piacere. Culetto l'ho chiamato, veramente. Allora, Charizard si chiama Fifone. Fifone. Perché? Mi sembra giusto. Perché? Che cazzo? Così. Ah, io vorrei far notare i nomi della mia squadra. Vulva, Culetto. Ma avete notato che a Salem c'è la musichetta di Lavandonia, di sottofondo? Eh, infatti, sentivo un profumo, un profumo di lavanderia, di lavatrici. E' bevigliarvi la sindrome di lavandinia. Di lavandini. Perché? Perché vi esce il sangue dalle orecchie al rubinetto e allora è la sindrome di lavandinia. L'avete capito? Mirko, ragazzi, parla quello che faccio la città. Mirko, Mirko, l'hai capita la mia battuta, Mirko? Ti sto cagando, zio, non ti sto cagando. Ho detto, esce il sangue dalle orecchie al rubinetto, quindi si chiama lavandinia. L'hai capita? L'hai capita? L'hai capita, Mirko, l'hai capita, l'hai capita, l'hai capita o no? Dimmelo, Mirko, l'hai capita? Ma poi ci sono tipo questi tipici spettro. Ma chi è che non ci fa lasciare la città? Non lo so, tipo una presenza di spettro. Devi andare sotto, ignoranti. Non possiedi il potere. Ah, forse tipo la spettro sonda, Danio, mi sentono. Oddio, santissimo, se volevo giocare al nostro fuoco. Ma la spettro sonda è la stessa che utilizzano per fare le colon? Le colonoscopie, sì. Esatto, esatto. Vabbè, raga, queste dovranno proprio tipo spettro. Ragazzi, sotto, oh ragazzi, andate nell'erba, sotto. Ci sono dei Pokémon micidiali, eh. Marco, Foretress, Gagli. Ci sono dei Pokémon, raga, pazzeschi. Pazzeschi. Io sono Tuberanza e in questo episodio... Ok, ravi, vado giù, vado giù. Io sono TheLerze. Lasciatevi un commento. Oh raga, qua c'è tipo Lens. Ma è Lens. Ragazzi, sapete che... Volvoli e Forest. Marco, lo sapete che comunque potrebbe essere un'ottima... Un ottimo membro della squadra? Ma sì. Volendo sì. Perché Ancio Crow è veramente forte. Ancio Crow. Ancio Crow. Ancio Crow. Cro, 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 cro. Che palle è sto fuori, deve essere rotto i coglioni, guarda. Ma pare solo lui. Ragazzi, sto facendo un po' di allenamento perché Lens mi si evolve tra pochissimo. Sei merda. E tra l'altro gli allenatori qua, le medium, dopo che le sconfiggi ti dicono, io ti maledico. Le medium è che si possono battere. Sì, quello è solo il percorso quello con la nebbia. E non lo fa battere a me. Quando arrivi sul percorso, com'è che si chiama il suo percorso? Milano Centrale? Per la nebbia. No, vabbè. Minchia, le battute. L'ho ammazzato a me perché mi ha rotto veramente le scarpe. A me non me le fa battere, Dani, mi dice. Ai Cursi You, mi dice. È perché non è tua zia. Non lo so. Se era tua zia la facciamo battere. Però vabbè, io sto proseguendo. Vediamo cosa dice il percorso. Lotto. Fermata Lotto. Ok, eccoci qua, siamo scesi. Ma stai battendo il tipo quello là, con i capelli rossi? Sì, eccolo, Lens. Non te la fanno battere perché in realtà non hai una sorella. Altrimenti quella l'avrebbero fatta battere. Sto affrontando Lens che in realtà sarebbe il bigliettaio della metro. Sì, ma che in realtà questo ragazzi sembra più che cazzo non ne so. Capelli rossi, sembra Anna. Capelli rossi? Una vecchia tonneca di seconda mano? Tu devi essere un Weasley. Perché questo non si chiama Lens? Vabbè raga, comunque io sto facendo un po' di allenamento nell'erba. Chi è che mandano? Oppela, volo in alto. Ciao zio. Orcavacca. Ma che Pokémon c'ha quello, Dani? Allora c'ha Tyranitar, poi c'ha Glyscore. Tyranitar? Poi c'ha Glyscore. È livello 60 ragazzi, quindi fa un po' male. Livello 60... No, devo affrontarlo per forza con Dragonet, se no non ce la farò mai. Vabbè, finché mi fa lancia fiamme... Mi fa una sonora pimpata. Chi si vuoi, Chisami? Eh vabbè, sì, ciao. Si vuole allenarmi un po' nell'erba. Ecco ragazzi, questo è l'allenamento che faccio ogni fottuto giorno nell'erba, come potete vedere. battere po' su po' come farmi salire i po' di livello, vedete? Guarda tu! Raga! Raga, non mi voglio squiderare, ma Lance, tra tutti i Pokémon, poi ne ha uno che non esiste, è un Fakemon, c'ha. Sì, vabbè, davvero? Sì, si chiama Konarp, ed è tipo tutto nero, con delle bo' strano, tipo con un'armatura. Eh, ma quale sarà la sua debolezza? Eh, Dio, che cacchio ne so! Ragazzi, Dragonite è da noi, la maglietta prenditi un Dragonite. No, raga, ma che cacchio è sto Pokémon, Konarp? Ma adesso, Conan, Super Detective, scoglio! Comunque l'ho sconfitto, eh, poi dopo c'è la meta grossa al 60, vabbè, poi dopo c'è... Aspetta, ma non... Ah, non ha effetto su Glyce Core! Ah, scusate, ma per quale motivo non avrebbe effetto su Glyce Core l'attacco elettro? Ah, boh! Cioè, sul serio non l'ho buttato giù a Balderali? No, aspettate, raga, che... Ok, mi sta parlando Dragon Dance. Ok. Dragon Dance, devo levarli. Ho addormentato. Cazzo! Gli ho levato a Lens, per sbaglio, gli ho levato l'unica mossa di tipo Drago che aveva. Genius. Ok, ci parla del gioiello della vita, io sono nato per proteggere e lodare Arceus. Tu fagli l'indovinello, io, allora, fagli ripetere, io sono nato scoglionato. Scoglionato. Non mi è mai stato permesso di giocare o di essere libero come gli altri bambini. Oh, che povero! Cucciolo. Cazzo, raga, gli ho levato... Oh, porca troia, guarda. Non sarò mai più uno schiavo della volontà di Arceus. Oh, mio Dio! Ecco perché sceglierò... No, ecco perché sceglierò il potere... No, regà, mi ha mandato Konarp. Sì, Konarp, sì. Ma questo è uno sgorbio! Ci parla di un potere che si chiama la creazione delle creature. Ok, ora l'ho batto. Non si capisce qual è la sua debolezza, però, zio. Ma wing attack! Ma io poi imparavo la mossa, poi se un Drago pulsa, cazzo, ho fatto la cazzata. No, regà, ma... No, regà, questo... Come faccio a batterlo, cioè... È forte? Ho fatto due terremoto e l'ho buttato giù. Terremoto? Terra? Ma non è che super efficace, eh? L'ho usato, gli toglieva abbastanza, è buona. Ok, comunque, quel lens che in realtà si chiamava Light ha smesso di... di adorare, di lodare Arceas ed è passato a Darugis. Cazzo, è forte sto Taranitar, minchia. Eh, io gliel'ho battuto, zio, però... Ok, si può tornare sopra adesso. Minchia, ma quanto è forte sto Taranitar? Rhyperior. Eh, no, regà. A questo devo fare assolutamente un nuovo live. Oh, Dani, Dani, ma quindi allora non sei il più forte, eh? Intanto io mi sto a girare la città in pace e loro là... No, no, io ho buttato un po'. C'è anche Glyscore, tipo. Zio, ci vuole tempo, ci vuole... Ah, ma perché Dani, sai? Perché Dani c'è la Blastoise. Calma, yeah. Eh, io la mossa ghiaccio, ah. Io, tra l'altro, contro quello là, contro l'ens, ho pure sbagliato a usargli tipo tre volte le mosse e ho vinto lo stesso. Cioè, ho usato un revitalizzato, ok? Evidentemente hai i Pokémon che sono messi bene, zio. Ma stai, a che livello sono arrivati i Pokémon? 59, 57, 56, 57, ok. Buono, 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 buono. Eh, ok, questo glielo butto fuori. No, questo è forte, raga, è veramente forte. Algron. Algron, raga, qual è la debolezza? Adesso non mi ricordo io. Ok, dopo aver battuto l'ens, lui ci ha dato il gioiello della vita, che è il dono di Arceas. Adesso, andando in quel percorso, ci dice, adesso tu hai il potere del gioiello della vita, puoi entrare e possiamo entrare. Sì, sì. Niente, raga, io ho fatto game over perché sono un idiota. Eh, anch'io. Anch'io. Ah, grone, non mi ricordo la debolezza. No, io ho fatto un sacco di errori per cavoli miei. Fatemi parlare! Vai. Il percorso che c'è al di là dello spettro che proteggeva si chiama Rosary Graveyard, ovvero, credo, il cimitero del Rosario, una cosa del genere. Se Rosary, ma non credo che Rosary si traduca in Rosario, quindi faccio una traduzione ignorante. Eh, è meglio che io mi prepari per quello che mi aspetta. Lars sente un urlo molto forte dall'interno del cimitero. Oh mio Dio, chissà che cavolo è successo. Tipo, aaaah! Sembrava la voce di Sidney. Questa è un corvo, Federic. Ah, scusa. Sembrava la voce di Sidney. Potrebbe essere in pericolo. Meglio che vada a controllare. Oddio, che figata. Ma io sto facendo delle cavolate enormi, cioè. La prossima parte, perché siamo già arrivati tipo a 20 minuti, io batterei questo allenatore. Ok. E poi basta. Raiperior. Beh, per Raiperior lascio volentieri lui, con idropompa, lo shottiamo come abbiamo fatto prima, immagino. Ce la fai ad attaccarlo? Eh, eh, meno male, hai. Almeno una gioia. Ah, quanto sto Teranitar, quanto mi dà fastidio. Gliscor. Madonna mia, sto Teranitar! Eh, provo forte. Idropompa. Vabbè, intanto che io l'aspetto, continuo a sfidare questi allenatori. Niente, ma devo giocare con Galeos, raga. Perché prima non ho usato manco un revitalizzante. Ho detto, giochiamo senza usare i revitalizzanti, no? Va bene. Io ne ho usato uno, proprio all'ultimo, che lui aveva la vita rossa. E io ho mandato in campo quel Tangela che avevo catturato. Ok. Ho usato un revitalizzante su un altro Pokémon. Lui ha usato una mossa che aveva il contraccolpo e ha fatto andare K.O. Tangela, mi è andato K.O. anche lui. E io sono rimasto col Pokémon che avevo appena revitalizzato. Che figata. Sì, vabbè, poi Galeos che mi missa così, ma battela a pian... Ok. Niente, devo usare, ragazzi. Venusaur mi aiuta un casino, gente la fa. Budello, Budello, Budello. Tutte mosse super efficaci, tutte le mosse super efficaci. Metagross, butto fifone. Eh, ragazzi, ma io ho una paura estrema su quell'altro. Cioè, su quello... sul Pokémon... quello tutto brutto, tutto malato. Comunque sarebbe quasi il caso che io catturassi altri due Pokémon, perché ne ho solo quattro. Sì, ma scusatemi una cosa, Aggron soffre lotta e fuoco perché è un acciaio, giusto? Sì, 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 sì. Acciaio o qualcos'altro pure, però. Oh, raga, io non riesco a battere Gligar qua, Gligar qua. Guarda che, guarda che cazzarola di roba. Tu guarda che roba se uno deve rimanere a così poca vita. Tu dimmi se uno deve rimanere con così poca vita. Eh, vabbè, grazie al cavolo, eh. Fa rost. Bah. Sì, vabbè, grazie al cavolo. Ti sto rivitalizzando tutti, praticamente. Cioè, l'unica cosa che posso fa... Niente, niente. Niente, porca di quella vacca di Eva, raga. Sono sfortunato come... come l'anima, proprio. Cioè, è confuso, attacca sempre. Quello lo cura, ma morì ammazzato. Vila me che ho fatto 5 ipnosi di fila a tutti i missed. Ecco, Conar. Ok, ho battuto pure le gemelline. Raga, io ho battuto pure gli allenatori sul percorso, eh. Ghiaccio. Amaris Mansion. Ice Wind. Oddio, oddio. Cosa? Al di là del percorso ci sta Amaris Mansion, ovvero la villa di Amaris. Appena entri, ci stanno... Ci sono 4 persone di quelle tipo... 4, tra parentesi, 4? Sì, di quelli tipo importanti. Cioè, ci sta tipo... Merda, merda! Ma chi è sto, Conar? Rosso. C'è la ragazza. C'è Brandon. C'è pure tipo... Regà, sono stato sfortunatissimo. So sicuro che nel prossimo episodio lo spacco malissimo proprio. Oddio, raga! Raga, mi ha sfidato l'allenatore quello di Pokémon nero e bianco e mi ha mandato a un solo Pokémon. Mi ha mandato in campo Kyurem nero al livello 70. Minchia. Kyurem nero al 70. Ma come facciamo? Cioè... È assurdo, regà. È veramente assurdo. No, vabbè, raga. Saluta, Fede. Raga, io ho battuto... No, sto battendo... Mi fai battere Conar, qua, un attimo. Ancora con Conar. Batti Conar. Ma no, tu lei e voi l'avete battuto Conar? Damò. Eh, no. No, l'aveva detto lui, mi ha detto di no. No, raga, è impossibile, cioè. Ma no, ma guarda, io, tutto sommato, riesco a batterli tranquillamente. Dai, lo potevo battere. Dai, smettila di curarti, che palle! Allora, che cosa c'è? Aveva lui come primo Pokémon. Ok. Tyranitar. Tyranitar. Tyranitar è un buio terra, quindi comunque soffre l'acqua. Sì, ha fallito Hyper Beam. No! No. Soffre l'acqua, assolutamente sì, quindi poi parto con Budello. Anzi, parto proprio con pesce, raga. Ok, Hyper Beam. Adesso dovrebbe star fermo un turno, giusto? Sì. Se non fallisce Overhead. No! Ha fallito Overhead, non ci credo. Overhead? Sì, sì, battuto, battuto. Sì, 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 ho battuto Lance. Sì, 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 sì. L'unico stronzo che non ce l'ha fatta a battere, lo so io. Ma raga, perché io nell'altra volta non ho usato manco un revive, per quello non ce l'ho fatta. Giustamente. Ho beccato Zorua, selvatico. Sì, raga, mamma mia, Dragonite Battle Ends, tanta roba. Dani ha incontrato Kyurem Nero, ma per quello vedremo nel prossimo episodio, ok? Non so, andiamo avanti ragazzi, zoppicando. Io direi che ci dobbiamo allenare è anche tantissimo, proprio tanto. Io direi che dobbiamo fare un episodio di allenamento assolutamente raga, perché... Sì, zio, siamo a 25 minuti. Ci salutiamo e al prossimo video. E tu quando ti prolunghi poi spari cose e così, a ruota. Maglietta in descrizione. Ciao, raga. Ciao. E al prossimo video. Ciao.